Tu hai parlato con il Papa, che hai ricevuto a Castellinaldorf una volta. Sì. Cosa gli hai raccontato di questa esperienza? Ma abbiamo parlato un po' di parizioni, così. Ma Santo Padre, noi dobbiamo ringraziare al Signore che abbiamo un Santo Padre come è lui adesso, in questo tempo difficile, è innamorato della Madonna. E allora lui non si deve dire tanto, perché lui sa tutto. E come se l'avesse vista, come se la conoscesse, come la conosci tu? Ma così tanto amore che lui ha per lei, non ho bisogno tanto di dirlo, perché lui sa cosa una mamma che vuole i suoi figli, vuole fare per i suoi figli, cosa vuole da noi. Lui sa tutto questo. Io posso solo dire che in occhi di Santo Padre, io come che forse ho visto la Madonna, perché così tanto amore che lui ha in suoi occhi, come quando guardo gli occhi della Madonna. Hai riconosciuto la stessa gioia, la stessa... Sì, la stessa amore, amore per tutti. Il Papa ti ha detto che vorrebbe venire a Međugorje? Se io posso dire bene in italiano, mi ha detto qualcosa come se non sono Santo Padre, già sarebbe venuto a Međugorje. Sì, la stessa amore, mi ha detto che vorrebbe venire a Međugorje.